ma fa la finita massimo quando è pronta mi chiami il 2011 parte ore 18 la Coppa di Burna la nuova stagione della Coppa di Burna mi porto orgogliosa di questo momento e non potrebbe che essere così eccolo per noi è veramente un'emozione forte per noi è un'emozione Grazie per la visione! Grazie per la visione 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 Grazie per la visione